Ciao ragazzi, oggi veloce video per mostrarvi il mio Seiko SKX 011 che ho già da un po' di tempo ma qui ancora non avevo dedicato delle riprese. Con l'occasione vi chiedo di seguirmi sulla pagina Instagram Orologi Express dove avevo già pubblicato alcune sue foto. Questo mio SKX poi qualcuno di voi l'avrà già visto di sfuggita in un altro mio video dove parlavo di alcuni cinturini tra cui il suo crafter blu arancione. Per quanto riguarda una recensione rapida della famosa linea di Seiko SKX rimando ad un altro dei miei video, uno dei primi fatti qui sul canale che per quanto amatoriale ritengo ancora abbastanza valido. Per me questo è un orologio che può essere indossato tutto l'anno nonostante i colori sgargianti, d'estate come Diver, d'autunno per riprendere i colori paesaggistici classici della terza stagione dell'anno, in inverno per tirarsi sul morale perché no sulla neve e in primavera ovviamente per i colori sgargianti. Ragazzi come sempre like e follow e ci vediamo al prossimo video. Ciao!